Buongiorno, pomeridiana quasi serale andiamo al forte del Praman ecco il forte e scendiamo dal sentiero che parte da dietro il forte forte di Exiles, dal forte di Exiles saliamo al forte del Praman sono un millino di dislivello, 13-14 km e all'inizio su asfalto poi su sterrato comunque sempre una bella strada carrozzabile poco dopo il bivio per Eclause, più o meno intorno al sesto chilometro partendo da Exiles la strada si fa sterrata ed è quella che porta al Praman prima e poi alla Galleria dei Saraceni che è un altro giro che faremo e questa è una strada militare eretta credo durante il ventennio anzi mi sono abbastanza sicuro visto che ci sono alcuni indizi momento bucolico altri momenti bucolici di questa salita che tutto sommato fatto con le mountain ovviamente piacevole cascate, ponti di pietra, alberi lassù veniamo noi, nuvole ed eccolo qua dietro l'angolo l'indizio sottile eccolo qua che qualche nostalgico ha pensato bene di evidenziare con la vernice qualche anno fa perché prima era solamente la pietra altro momento suggestivo molto fusion molto feng shui galleria con cascata all'esterno per rilassare la mente e il corpo siamo a 1.900 dovevamo quasi esserci 1.400 metri di dislivello finora e una mezz'ora di pedalata ed eccoci arrivati al forte un po' di sfasciume ed eccolo qua l'ultimo tornantino prima di arrivare al piazzone del forte vero e proprio il meteo non è clementissimo ecco il forte mi sono portato la luce della bici così possiamo fare un tiro un po' di sfasciume tanto il forte stanze piene di pattume e da qua invece si va direttamente sul tetto e qua dovevano essere installati i cannoni in questi punche dunque e invece qua sotto c'è la Val di Susa un po' affuscata mentre come sempre in questo giugno salgono le tenebre direi che ora di incamminarsi dal forte c'è questo sentierino che dovrebbe tornare da dove siamo al grattino al grattino e se lì c'è il manfino sponaco ahi sa se non altro è segnato questo dovrebbe tornare giù alla strada che poi ci porta alla piazzola alla piazzola dalla quale parte il sentiero che scende la Salbertrand esatto qua c'è una stradina qua l'area di servizio e qua il sentiero che torna a Ulzio 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 io ho tentato di farlo anni fa con la 26 non ero tornato indietro dopo pochi metri perché non mi piaceva troppo scassato qua forse ero arrivato qua mi avevo detto chi me lo fa fare ma invece ma invece mi sembra peggio di molti altri fatti in questi ultimi due anni lo sfasciume resta i tornantini anche vediamo che migliori qui non 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 buongiorno buongiorno ciao che non ci fosse lo sfasciugo di pietra sarebbe il top però in realtà è fattibilissimo è fattibilissimo se non vai giuve che fai pietra grotta come sempre il segreto è lasciarla andare ma diciamo non ci fossero le pietre sarebbe un gioiello così non è male mi segna essere elastico e morbido e a non frenare troppo ma si fa adesso qua il fondo ha migliorato decisamente nonostante il pietrisco come non detto sborone quello che sto sforzandomi di fare è guardare lontano e non toccare i freni o toccarli meno di quanto farei devo dire che funziona il canyon il canyon merdano e poi l'altra cosa su cui penso di essere migliorato anzi lo sono che non vuol dire che sia bravo ma che sono più bravo di un paio di anni fa sono i tornanti e il segreto è girare il la testa e girare i fianchi e frenare il giusto e 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 ormai e ormai come ci fa intuire la vicinanza della statale possiamo considerare il giro belle che è finito accendiamo la luce posteriore così ci vedono chiudiamo le sospensioni e e se vi è piaciuto il giro mettete mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima stasera pizza e riapriamo tutto e facciamo un ingresso in paese exiles degno di nota ce che qui qui le